Ciao, sono Ea Polonara di Asteres, oggi l'evento Hotel Vincenti dove partecipano albergatori da tutta la regione e in particolare da Senigallia perché si tiene proprio a Senigallia e a Senigallia l'hanno fortemente sostenuto, chi in particolare? L'associazione albergatori con Simona Romagnoli che la rappresenta? Grazie Ea, ho creduto subito a questa manifestazione, a questo corso di formazione di tutta la giornata quindi abbiamo cercato di divulgarlo a tutti i colleghi sia della nostra città che un po' in tutta la regione, fino adesso è stato molto interessante quindi grazie mille, spero che si ripeta non solo una volta all'anno ma più volte in un anno perché comunque noi abbiamo assolutamente bisogno di questi tipi di corsi di formazione, quindi grazie mille veramente. Grazie, grazie a voi per la collaborazione come sempre attenta a chi sul territorio propone e ci vuole questo, lavorare tutti insieme per unire le forze per fare al meglio. Assolutamente.